Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Beppo Oggi siamo qui In questa nuova serie E Sono da solo Questa mappa parkour Che è la Non mi ricordo La ultimate leap Che sono tipo 256 miliardi di messaggi Se un tester di cazzo lo smettesse di Spammarmi su Skype E questa mappa È una mappa parkour appunto molto bestemmiosa Facciamo Nivello intermedio Non troppo Vacab Sta laggando Perfetto via Nivello 1 Verrei teletrasportato a breve Nivello 1 Vedete i primi livelli sono abbastanza semplici Quindi Si possono fare tranquillamente Alla veloce Via appio E lag 2 3 Pregio a velocità di fps Basta No Non posso Adesso basta Ok Ok Comunque sono tipo 30 livelli Questa mappa E quindi sarà una serie Abbastanza minima Intanto il primo checkpoint L'abbiamo bruciato Continuiamo Continuiamo Perseguiamo In questo Cammino Che ci porterà Andando muore Salto Cruciale Sono fatta Vai Ok Vai così Ok Ok Checkpoint Fatto Allora arriviamo Da sopra Alla vittoria Non gli ho Di questi salti così Inclinati E andiamo A vincere Il primo livello Inizia subito Il secondo Così Ci togliamo Il pensiero Vai Secondo livello Vai Everybody We are ready Dry desert Sono al deserto Con questo Le dà Spastico Se lo faccio Tutti in un colpo 10 mi piace E facciamo subito Un prossimo episodio Quindi Guardate E mettete mi piace Subito In maniera Molto Accom Se avete fatto Tutti in un colpo Se non lo faccio Tutti in un colpo 10 Tutti in un colpo 15 Se no Non lo scordate Per ora Stiamo andando Più che bene Più che molto bene Vai Ok Checkpoint Vai Ok Ok Molto bene Non parlo Non dico niente Vai dai 10 mi piace Mi è contento Per il prossimo episodio Siamo quasi Arrivati Al checkpoint Ma qua c'è una cosa Allucinante Ok Attenzione Ci stiamo avvicinando Non laggare adesso Non laggare Ok Checkpoint Andiamo Verso la fine Eh ma lagga Così devo farci Io se lagga Cazzo Laggare in single player Immaginate voi Multi player Dio Ok Vai Andiamo Salti di merda Questi Oddio Vai Sì Anche secondo livello È fatto Io direi Che per questo Episodio è tutto Noi Ci vediamo In un prossimo episodio 10 like Lo carico Un saluto Da Beppo Mi raccomando Iscrivetevi Lasciate un commento E a un prossimo episodio E a un prossimo episodio